Movida violenta a Marina di Camerota. Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo luna, è scoppiata una rissa in un noto locale situato a pochi passi dall'area mercatale. Secondo una prima ricostruzione a scatenare il caos, sarebbe stata una violenta discussione nata da alcuni clienti presenti nel locale, tra cui un giovane extracomunitario. Il ragazzo di circa 25 anni aveva alzato il gomito ubriaco e ha iniziato a dimenarsi all'interno del locale. Il suo modo di fare ad un certo punto ha iniziato ad infastidire gli altri presenti. In pochi minuti la situazione è degenerata. Prima una discussione verbale con alcuni ragazzi, poi calci e pugni. Nella rissa da avere la peggio è stato proprio l'extracomunitario che nella lite ha riportato una brutta ferita alla testa, con una profonda ferita e il volto pieno di sangue, è stato allontanato e lasciato a terra dinanzi alla guardia medica, dove era presente una sola infermiera che ha chiesto aiuto poiché il ragazzo ferito mostrava evidenti segni di squilibrio ed era difficile anche medicarlo. Con l'aiuto di altri operatori sanitari, il 25enne è stato caricato su un'ambulanza e accompagnato all'ospedale San Luca di Vallo per le cure necessarie. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze degli altri clienti presenti nel locale e delle persone che hanno assistito al soccorso del ragazzo. Restano da capire le reali motivazioni della lite. L'episodio comunque ha scosso la comunità locale. L'estate è solo all'inizio, da più parti si chiede maggior sicurezza.